La sala che avete visto vuota, bisogna riempirla il 3 dicembre al teatro Città della Notte di Augusta, 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 Augusta Bellilli, la dovete riempire perché ci sarà uno spettacolo straordinario che avverrà una stagione bellissima, una stagione del sorriso, ilmentata da quel genio di Mauro Italia che noi due abbiamo lo stesso parrucchieri, io e lui, sarà uno spettacolo che inaugurerà si chiama Dezzamore, una convita divertentissima con me, Marco Cavallaro, E poi c'è, no non c'è adesso Marco Maria Rilavecchia che non sta, però lui ci sarà il 3 dicembre, teatro alle 20 e 30, una commedia straordinaria, scinta da lui, non è vero, si scinta da me, verremo noi tre, scherzo non c'è, noi tre i nostri nasi vengono pure insieme, insomma ci saremo tutti, aspettiamo voi per riempire la sala che non è questa, ma voi riempitela la sala perché la commedia vale tantissimo e soprattutto vale questa sorrassegna di un buon umore straordinario, ciao a tutti, ci vediamo il 3 dicembre, ad Augusta e venite, oh venite, un bazzardata non 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 venite. Grazie